Non sarà forse stato l'uomo più onesto e neanche il più caritatevole della terra, ma era un uomo valoroso. Si chiamava Diego Latriste Itenorio e aveva combattuto come soldato nei vecchi battaglioni di fanteria durante le guerre delle Fiandre. Quando lo conobbi, tirava a campare a Madrid, dove lo si poteva assoldare al prezzo di quattro maravedì per lavori di poco lustro, soprattutto come spadaccino per conto di chi non aveva l'abilità o il fegato necessario per risolvere da sé i propri contenziosi. Avete già capito. Oggi un marito cornuto, domani una causa o un'eredità incerta, debiti di gioco saldati solo a metà con tutta una serie di annessi e connessi. Adesso è facile criticarlo, ma all'epoca la capitale dell'impero spagnolo era un posto in cui la vita bisognava guadagnarsela cogliendo al volo ogni occasione, a un angolo di strada, tra il luccichio di due spade. In tutto ciò Diego Latriste se la cavava a meraviglia. Era estremamente abile quando si trattava di tirare di spada e meneggiava ancora meglio quelle finte della mano sinistra, la daga stretta e lunga che qualcuno chiamava biscaglina e di cui erano soliti avvalersi gli attaccabrighe di professione. Un colpo con la spada e uno con la biscaglina, si diceva allora. L'avversario era tutto preso ad affondare e a parare le ganti stoccate di scherma quando all'improvviso gli arrivava da sotto, dritta nelle butella, una coltellata secca come un fulmine che non gli lasciava neanche il tempo di raccomandarsi a Dio. In effetti, come ho già detto a lor signori, erano anni duri. Il capitano Latriste, insomma, con la spada si guadagnava da vivere. Per quanto ne so io, quello di capitano era più un soprannome che un grado effettivo. Se lo portava appresso da lunga data, da quando, in qualità di soldato semplice nelle guerre del re, una notte aveva dovuto attraversare con altri 29 compagni e un effettivo capitano un fiume gelato. Pensate un po', in nome della Spagna e compagnia bella, con la spada tra i denti e i maniche di camicia per mimetizzarsi in mezzo alla neve e prendere di sorpresa un avamposto di olandesi. Erano i nemici di allora perché avevano la pretesa di proclamarsi indipendenti e chi si è visto si è visto. Alla fine ci sono comunque riusciti, ma nel frattempo gli abbiamo dato del bel filo da torcere. Per tornare al capitano, l'idea era quella di restare lì, in riva al fiume o a una diga o quel che diavolo era, finché all'alba le truppe del nostro signor re non avessero sferrato l'attacco per ricongiungersi a loro. Insomma, gli eretici furono debitamente accoltellati senza che avessero nemmeno il tempo di dire bah. Stavano dormendo come i ghiri quando all'improvviso i nostri uscirono dall'acqua con una gran voglia di scaldarsi un po' e si scrollarono il freddo di dosso spedendo eretici all'inferno o in qualsiasi altro posto finiscano le anime dei luterani. Il guaio fu che poi venne l'alba e si fece mattina inoltrata e il successivo attacco spagnolo non ci fu. Questione, avevano raccontato in seguito, di rivalità tra maestri di campo e generali. Di fatto, i trentum malcapitati vennero lasciati lì, abbandonati al loro destino, tra le imprecazioni, a maledire chissà chi e ad appellarsi al cielo, circondati da olandesi decisi a vendicare i compagni sgozzati. Erano più spacciati dell'invincibile armata del buon Filippo II. Fu una giornata lunga e durissima. E perché loro signori, se ne facciano un'idea, solo due spagnoli riuscirono a tornare sull'altra sponda quando fece buio. Diego la Triste era uno di loro e siccome durante tutta la giornata aveva comandato lui la truppa, il vero capitano era stato liquidato già nella prima scaramuccia con due palmi di spada che gli uscivano dalla schiena, gli era rimasto quello mignolo, anche se non era mai arrivato a ricoprire tale grado. Capitano per un giorno di una cozzaglia di soldati condannati a morte che erano andati al diavolo vendendo cara la pelle, uno dopo l'altro, con il fiume alle spalle bestemmiando in buon castigliano. Cose che succedevano nel turbinio della guerra. Cose che succedevano in Spagna. Buongiorno miei cari mozzi e mozze del vintage e benvenuti in una nuova puntata del lettore iracondo. Quest'oggi niente video. In questa giornata particolarmente uggiosa in cui la luce che esce dalle finestre sicuramente non mi facilita una ripresa decente, quest'oggi ho deciso di concentrarmi su un microfono. Facciamo così, ce la prendiamo con calma oggi, voi ascoltate magari davanti al camino con una bella tazza di quello che volete, caffè, tè, quello che volete e ci rilassiamo parlando di libri e chicchessia, d'accordo? Quest'oggi parliamo di Alatriste, uno dei personaggi di punta di uno dei più importanti scrittori contemporanei, cioè Arturo Persereverte, che oltre a essere un scrittore, un ottimo scrittore, è anche giornalista. Tra l'altro è stato inviato di guerra in zone come le Falkland, quindi non un personaggio di primo pelo, ecco. Tra l'altro le sue opere, come in questo caso Alatriste, è anche uno più recente, cioè l'italiano, sono state trasportate anche nel contesto del cinema o delle serie tv. L'italiano deve ancora uscire la serie tv, però è addirittura d'arrivo praticamente. Ma nel caso oggi io volevo concentrarmi ovviamente, come avete già intuito, su Alatriste e vorrei fare un paragone tra il libro e il film. Quindi quest'oggi potrebbero anche sfuggire degli spoiler, quindi io vi consiglio di fare due cose ovviamente, cioè una, leggere il libro, due, guardare il film, in cui Alatriste è interpretato da Mortensen, Viggo Mortensen, e poi tornate qua e analizziamo insieme le differenze che ci sono tra il libro e il film, d'accordo? Se poi voi volete rischiare, io vi ho avvisato. Allora, senza girarci troppo intorno, Diego Alatriste, o più comunemente conosciuto come Capitano Alatriste, era un soldato dell'esercito imperiale spagnolo, Alatriste tra l'altro ha affrontato le guerre in Olanda, nelle Fiandre, contro gli olandesi che osavano, diciamo così, tra virgolette, pretendere di conquistare l'indipendenza dalla dominazione spagnola. Ed in questo contesto Alatriste perderà tanti uomini in una determinata battaglia o per meglio dire in una determinata schermaglia in cui era stato inviato con alcuni soldati nel cuore della notte a conquistare una posizione nemica nella quale poi avrebbero dovuto aspettare l'esercito, il grosso dell'esercito spagnolo la mattina seguente che li avrebbe supportati. In questa unità di uomini speciali, ecco, uomini speciali ne sopravviveranno in pochi e il giorno dopo l'esercito spagnolo non andrà nemmeno a soccorrerli e quindi loro dovranno cavarsela circondati da questi olandesi. Ma questo è un po' il contesto storico del personaggio, viene lì veramente accennato nel libro e ovviamente tra l'altro bisogna precisare che alla triste quello che ho letto io è solo uno dei tanti libri di questa lunga serie. Se non erro ho sentito parlare che forse ne pubblicheranno due futuri, però sono soltanto voci di corridoio e potrei errare, quindi prendiamole con le pinze queste informazioni. In ogni caso uno dei più cari amici che ha in quel fronte nelle Fiandre è questo Balboa che muore in combattimento e quando alla triste tornerà in Spagna la moglie di questo Balboa conoscendo comunque la sua fama decide di inviare il suo figlio Inigo a fargli da scudiero tra virgolette diciamo così da scudiero perché è una madre con delle grosse difficoltà economiche con tanti figli all'epoca era così e non riuscendo a sfammarli tutti ha pensato mandiamo mio figlio alle mani di questo questo grande combattente questo grande capitano che di capitano ha soltanto nome non aveva il grado di capitano e così potrà crescere in maniera sicura che poi avrà a che fare comunque con un uomo come la triste che lo tratterà con un grandissimo rispetto gli insegnerà tante cose ma sulla sicurezza la vedo molto dura visto che è considerato che alla triste per campare durante le pause tra una guerra e l'altra si faceva quello che tutti i soldati cercavano di fare per campare cioè gli spadaccini o per meglio dire venivano assoldati per risolvere delle problematiche no? tirava un po' di spada un po' di schermo il classico cappa e spada e si campava così arrivava però un giorno un giorno abbastanza particolare in cui viene contattato da questa gente abbastanza oscura segreta non si capisce inizialmente chi sono perché quando li incontrerà saranno mascherati tranne uno che andremo ad analizzare meglio tra poco e vengono lui e un altro spadaccino che è questo siciliano gualtiero a mala testa che poi più avanti diventerà uno dei più acerrimi nemici dello stesso alla triste comunque vengono incaricati inizialmente di spaventare questi due forestieri inglesi che sarebbero giunti di notte a Madrid non si sa per quale motivo erano lì o almeno non lo si sa prima ecco e quindi vengono incaricati di ferirli spaventarli e poi lasciarli vivere il problema è che tra i mascherati quello che aveva preteso solo lo spavento e il ferirli quando si allontana sbuca in questa conversazione il famigerato Emilio Boccanegra era un inquisitore un pericolosissimo inquisitore che ti faceva condannare a morte per un non nulla anche solo per un dubbio quindi capiamo che comunque siamo nel contesto dell'inquisizione spagnola che non ci si poteva scherzare su molto ecco e quando arriva questo Boccanegra lui dichiara no voi dovete ucciderli questi due inglesi perché sono dei infedeli perché qui vige il cristianesimo la fede cristiana cattolica loro invece sono protestanti fatto sta che poi la notte in cui fanno questa imboscata e cominciano a combattere a duello con questi due inglesi alla triste sente che c'è qualcosa che non va sente che c'è qualcosa di strano e quindi interrompe il duello e nel film non viene spiegato bene tutto questo contesto è un po' strano nel libro invece è estremista proprio non accetta un no come risposta è una persona sadica fa paura solo a guardarlo e ti minaccia anche con violenza verbale quindi già qui c'è un'altra differenza tra il film e il libro ok e poi per essere più precisi nel film non viene ampliata al meglio la figura dei due inglesi cioè uno dei due sarebbe il principe del galles cioè il futuro re d'Inghilterra c'è molto più parlato tra la triste e questi due inglesi ci sarebbe anche una scena più avanti in cui gli inglesi visto che vengono salvati da questo spagnolo così venuto da nulla che poco prima li voleva uccidere e poco dopo li ha voluti salvare ripagheranno questa questa gentilezza in un altro modo che non ve lo dico non ve lo dico perché è molto molto bella come scena molto molto bella vi posso invece dire che quando loro vengono salvati e la triste viene riconvocato presso la presenza ecco di 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 bocca negra nel film gli dice ah non ti facciamo niente però la tua anima è condannata punto fine no nel nel libro lui e l'altro mascherato non quello che gli aveva chiesto di ferirli uno dei l'unico che assieme a bocca negra aveva insistito affinché gli uscidesse quei due inglesi gli fanno una sottospecie di processo e all'inizio sembra che non gli vogliono fare niente ma quando lui esce da questo palazzo nel cuore della notte a Madrid ci sono tre spadaccini uno dei quali è ma la testa lo spadaccino che l'aveva assistito ecco durante quel questo duello e solo che viene abbastanza salvato da Inigo il il piccolo ragazzino che era diventato il suo scudiero che l'aveva seguito di nascosto e quando ha capito che c'era qualcosa che non andava con la con la pistola riesce a uccidere almeno uno dei tre e quindi alla triste si sente è un pochino più in vantaggio e sopravviverà a questo a questa attacco ovviamente ci saranno anche dei racconti un pochino più approfonditi per quanto riguarda la storia che circola intorno alla Spagna dell'epoca del seicento raccontati da Inigo perché mi sono dimenticato di dirvi all'inizio che il racconto è narrato da un vecchio Inigo che narra tutte le vicende inerenti alla triste e non solo ci sarebbe di mezzo anche una signorina che gira intorno nella vita di Inigo e cioè Angelica de Alcazar spero di aver pronunciato bene scusatemi che è questa ragazzina che a quei tempi ha la stessa età di Inigo e Inigo è totalmente infatuato di lei lei è figlia di mercanti però nonostante il suo amore la sua ingenuità lo acceca di fronte a delle evidenze perché questa Angelica seppur di bellezza incredibile ha dei secondi fini perché dietro di lei ci sono altre persone che tirano i fili ecco e quindi c'è un'aggiunta di trama c'è un'aggiunta di 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 intrigo che rende ancora più ricco di 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 informazioni questo libro da più accenni a uno dei tanti amici di 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 la triste cioè francisco de che vedo che era realmente un famoso poeta spagnolo dell'epoca che viene narrato nel libro come un un spadacino che non si faceva problemi a a tirare fuori la spada soprattutto quando a fianco a lui c'era la triste perché si sapeva delle grandi capacità con la spada della triste allora lui si sentiva ancora più tranquillo al riguardo ma soprattutto si accentua maggiormente l'incontro tra la triste per la prima volta e il conte di olivares che sarebbe era il capo del governo spagnolo dell'epoca ma in fin dei conti la fine della fiera era lui quello che comandava definitivamente tutto l'impero spagnolo siccome il re era molto giovane ed essendo molto giovane si preoccupava di poche cose cioè di teatro di belle donne e di caccia e quindi olivares sotto sotto riusciva a tenere le redini di questo impero che comunque sta giungendo al termine sta cominciando ad andare verso l'oblio della storia e quindi è affascinante vedere che questa saga ci racconta queste vicende in un periodo storico che inizia dal dalla parte dal momento più alto della storia spagnola al periodo più oscuro ci sono comunque tantissimi personaggi storici e questo dimostra solo una cosa che reverte e oltre a un grandissimo scrittore è anche un grandissimo patriota perché comunque sa narrare al meglio la storia del suo paese ed è una cosa giustissima si vede la sua passione si vede il suo affetto nei confronti del suo paese vengono posti dei dettagli che possono sembrare inutili ma essendo un romanzo storico ovviamente il lettore viene inserito nel contesto con gran facilità tra l'altro non utilizza neanche un vocabolo così forbito anzi usa usa delle terminologie anche volgari a volte lo scrittore ma nel senso buono del termine perché ti fa entrare in quel contesto diciamo sporco di quel Madrid minaccioso oscura fatta di spadaccini mercenari di vicoli bui e di intrighi di palazzo in ogni caso andassi oltre potrei esagerare con gli spoiler perché già parlando di quel contesto di bocca negra e di dell'attacco poi andato a male potrei aver già spoilerato abbastanza però diciamo che quello è il fulcro del racconto l'inizio del viaggio dell'eroe in cui all'attrista poi la sua vita comincia a cambiare drasticamente nel bene e anche nel male io comunque in ogni caso mi fermerei qua e vi rinvito nuovamente a sia leggere il libro se non l'avete ancora fatto sia guardare il film e fare dei paragoni in ogni caso io mi fermo qua io vi ringrazio per aver ascoltato ditemi se questa tipologia di format vi piace di più rispetto a la versione video in cui mi si vede mentre parlo mi farà piacere un po' modificare questo format e renderlo più piacevole per chi è appassionato di lettura vi ringrazio ancora seguiteci iscrivetevi come sempre su questo canale e su telegram così non perdete nessuno dei nostri aggiornamenti mi raccomando grazie ancora e che il vintage sia con voi